I carabinieri di Sala Consilina hanno eseguito fra la piana del sede del Vallo di Diano un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di otto persone, facente parte di un sodalizio criminale dedito al rifornimento e allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata Coffee Break, scaturisce da un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro, che ha ricostruito gli assetti organizzativi e i vari ruoli tenuti dai singoli indagati, documentando ben 250 episodi di spaccio e sequestrando un chilo e mezzo di droga fra ascisce e cocaina. 8 gli arresti in tutto, eseguiti tra il Vallo di Diano e la piana del Sele. Fra questi un cittadino tunisino residente a Teggiano che si trovava già nel carcere di Potenza, 3 arresti domiciliari per altrettanti cittadini tunisini residenti ad Eboli e 4 obblighi di dimora con permanenza in casa nelle ore serali per un uomo di Teggiano, una donna rumena e un cittadino tunisino residente a Teggiano ed un uomo di Atena Lucana.